Oh, espresso poesia, espresso poesia, Lorenzo Bartolini, sono sempre io, oggi voglio leggervi la poesia di un altro dei miei poeti preferiti, Vladimir Vladimirovich Muyokovsky, fa favore solo il nome, c'è tutta la potenza dentro, a me piacciono tantissimo i poeti futuristi russi e lui diciamo probabilmente il capo stipite, il piuttosto Muyokovsky andava in giro con una tuta da operaio gialla fosforescente per Mosca, andava a San Pietroburgo al cane randaggio a declamare a voce potente le sue poesie, io lo amo per questa sua violenza innocua chiaramente, perché è una violenza delle parole, le lo amo perché ha inventato nuove parole, cioè dopo i futuristi, dopo Muyokovsky, la poesia è cambiata, ha dovuto prendere un'altra via, tutti si sono dovuti confrontare. Allora vorrei leggere proprio una poesia secondo me che dentro a tutto questo di cui vi ho appena parlato, si intitola a vi, ma glibi, ma voi potreste? A un tratto impiastricciai la mappa dei giorni prosaici, dopo aver schizzato tinta da un bicchiere e mostrai su un piatto di gelatina gli zigomi sgambi dell'oceano, sulla squama di un pesce di latta, lessi gli appelli di nuove labbra, ma voi potreste eseguire un notturno su un flauto di grondaie?